verde gialla viola che pensa allora una di averla vista non qua ma qua c'era la verde è vero c'è la verde qua sotto qui c'è la gialla allora qua c'è la verde e prendiamo la gemma verde prendiamo un poco gemma verde queste parti delle gemme ve le divido in due tre parti qui ci sono le eliche c'è l'elica con tre pale via robotini anguilla elettrica le pale con il robot uno dietro i robotini jack point maschera vai praticamente la gemma verde bisogna andare qua dietro dietro un muro finto ecco la gemma verde presa ora però dobbiamo tornare indietro ho due maschere quindi quindi possiamo stare un po più tranquilli eh si però ci ha messo poco ad attivarsi c'era impossibile schivarlo dietro un muro finto non ci sono nitro perché devo fare di esplodere andiamo dall'altra parte jack point tre pale ok però se non salti che sono uscito a perdere tutte le maschine tre pale ok ora ce l'ho fatta senza maschere è così delle volte delle volte ti sembrano maschere infinite delle volte non ci riesci in due secondi ok passiamo adesso guardate com'è fatto bene quando deve stare su questi questi muretti questi questi soffitti è fatto molto bene come come stilizzazione del personaggio è abbiamo portato la carta alla gemma verde ok ora abbiamo tre gemma ci manca la gialla e quella viola allora la gialla si prende al piano 3 no non devo andare giu devo andare su mi confondo sempre ai tasti giallo ok e la prendiamo con coco giallo ok ok la gemma i dalla si prende in questo livello ecco e io come sempre la prima morte devo farla subito se no non sono contento qua dobbiamo fare la prova a tempo adesso ok 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 Intanto un'altra maschera No, mi serve la maschera Mi serve la maschera Ah ok, possiamo farla Poi a tempo No, mi serve la maschera Ok Ecco la giamma gialla Presa Vai Sì, mi sa che ve lo divido in tre parti Gembe colorate parte 1, 2, 3 Perché Ci ho voluto almeno mezz'ora Quindi Tre video alle dieci minuti ci stanno Gialla Ok Abbiamo adesso 4 gemme colorate Ci manca solo la viola E andiamo su Perché la viola sta al quarto piano In questo livello Behaving Vedete la colorazione viola della seconda gemma È perché sta qua È in questo livello Adesso facciamo un crash Ok No Niente Mi ha ammazzato Vai Via Stricciata Andiamo Sotto terra Via tu Orribile pianta Maschera che ti serve Questa vuoi? Perché devi venire a disturbare un po' il martello? Vai via Le api Quella è la vita È la vita Ok Ho fatto appena in tempo Questo si muove A velocità pazzesca Qui c'è la corrente Via il tipo con il martello È qua Praticamente è qua Dove abbiamo fatto Il livello 20 No il livello Sì Il livello 20 Il livello 20 Nei precedenti episodi Siamo arrivati qua E praticamente io andavo Da questa parte qua Avanti Cioè questo tizio qua Che va avanti Indietro Fa Fa casino Invece per andare A giamba viola Dobbiamo andare qua sopra Sembrano nitro Normali Ma sono Si può camminare sopra È fatto apposta Infatti l'indizio Il suggerimento iniziale Lo dicevo Ok Qui ci sono le talvi Va bene Dobbiamo Andare qua sopra Ecco la viola La viola L'abbiamo presa Ok Qui c'è un tipo Che spara Vai via Cacciatore E qua come facciamo? Devo passare sopra? Devo andare indietro E passare sopra Ok Qui passo sotto Sotto Basta Sparare Eh niente Ho beccato un proiettile Noi adesso abbiamo già La gemma viola Quindi potremmo anche Skippare Quel Percorso Per la gemma viola Perché la gemma viola Che l'abbiamo già Solo che Io vi devo fare Il video in cui vi completo Vi devo dimostrare Le mie capacità E quindi dobbiamo fare Il percorso Per la gemma viola O almeno Che voglio provare Che voglio provare Ha due proiettili Dove sono questi cazzatori Che li sistemo Maschera Ok Qua dobbiamo fare un salto Niente Non ce l'ho fatta Vabbè L'ho passato Dove mi porta Questo Non è un bonus Ah me li porta qua Allora io pensavo Mi portavo Alla fine Ah me li porta qua Quindi praticamente Abbiamo fatto il percorso Per niente Però almeno vi ho dimostrato Che ce l'ho fatta A fare il percorso Non mi sono schivato Non mi sono schivato il percorso Per fortuna che avevo il checkpoint Preso da poco Si però Ero arrivato alla fine Mannate a me Che commetto questi errori Ok Possiamo andare Livello completato E ora abbiamo tutte e 5 le gemme colorate Quindi possiamo fare i percorsi speciali con le gemme Possiamo fare quello che ci vale di più di fare Usiamo viola Ok ora nei prossimi episodi Andremo a fare Tutti i livelli Nel prossimo episodio andremo a fare tutti i livelli E Da capo Dall'inizio Dal primo livello E le rendiamo tutte a reliquia dorata E passando per le reliquie Andiamo a prendere anche le gemme che ci mancano Tipo Ci manca questa E Basta In questo piano Mancava solo quale gemme lì E le faremo tutte Il tempo di questa E 0.56 87 Quindi meno di un minuto Per fare la reliquia dorata Va bene Io spero che questi video vi siano piaciuti Io vi invito a dare un like Un commento per darmi la vostra opinione Iscrivetevi al canale Se nuovi Condividete i video E noi ci vediamo Nel prossimo video A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.